liberamente il podcast di psicologia con storie idee consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast liberamente il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale ogni estate che si rispetti si sa ha il suo tormentone e fino a pochi anni fa era solo un tormentone musicale ma con l'avvento di internet e l'inizio dell'era digitale ogni anno esce fuori anche una nuova moda una nuova tendenza virtuale e se il tormentone musicale di quest'anno a me è ancora sconosciuto perché ragazzi non sono ancora riuscito a partire per le mie vacanze una cosa alla quale ho intenzione assolutamente di rimediare al più presto infatti questa lo annuncio fin da subito è la puntata dei saluti prima della pausa estiva quindi ci salutiamo qui e riprenderemo ad ascoltarci verso la seconda metà di agosto ma per quanto riguarda la moda virtuale del momento di quest'estate non ho assolutamente dubbi sto parlando ovviamente di face up in poche parole l'applicazione da smartphone che invecchia il viso umano e che ha praticamente spopolato nelle ultime settimane su tutti i social in assoluto ma cos'è che rende face up così irresistibile cosa si nasconde dietro questa applicazione che sembra aver stregato il mondo intero con il suo effetto invecchiamento quasi così contro intuitivo rispetto al trend di tutte le applicazioni di editing dell'immagine che tendono invece a farci sembrare più belli e più giovani quali sono le leve psicologiche che utilizza face up per costringerci ad utilizzarla anche se non vorremmo insomma non perdiamo altro tempo ragazzi entriamo nel cuore di questa puntata e scopriamo insieme che cos'è la face up mania e perché invecchiare è diventato così virale face up per chi la sentisse nominare per la prima volta è il nome dell'applicazione russa lanciata a gennaio 2019 che utilizza l'intelligenza artificiale per elaborare le foto ed applicare particolari filtri al volto il più famoso è proprio quello per invecchiare le persone ma ci sono anche tanti altri effetti per applicare magari trucco cambiare colore o taglio di capelli modificare l'espressione e perfino pensate un po anche cambiare sesso e su questo possiamo essere più o meno in accordo proprio il filtro però per l'invecchiamento è stato ultimamente aggiornato e migliorato in modo da restituire risultati ancora più vicini a quelli reali in pratica per utilizzare face up è sufficiente scaricarsi l'app sul telefonino scattarsi un selfie una foto e vedere come saremo fra 30 anni face up è quindi diciamo l'app del momento perché si propone oltre che come applicazione di editing e miglioramento dell'immagine come una vera e propria macchina del tempo in grado di farci viaggiare sui binari della filtro magia per vedere quanto sarà cambiato fra qualche decina di anni il nostro volto sono tante le caratteristiche che una app deve avere per diventare virale dalla facilità magari di accesso al fatto che sia semplice da usare che coinvolga emotivamente e socialmente le persone ma ciò che secondo me rende face up così virale e irresistibile per chiunque è proprio la sua capacità di farci giocare con il tempo ecco questo è secondo me il segreto che si nasconde dietro questa applicazione ma ci sono delle leve psicologiche molto precise di cui parleremo all'interno di questa puntata moltissimi vip hanno iniziato ad utilizzarla proprio in queste ultime settimane caricando magari una loro foto e poi di condividendola sui diversi social da eros ramazzotti a matteo renzi a chiara ferragni a fedez per passare poi alle personalità più internazionali e di hollywood quindi come ad esempio leonardo di caprio e girano queste foto modificate su tutto il web e quindi è impossibile prima o poi non incappare su una di loro e questa diciamo è la prima grande leva psicologica che sta alla base del successo di face up cioè quella dell'imitazione sociale che non è nient'altro che il l'effetto influencer cioè imitare quella certa persona mi renderà simile ed importante come lei quindi moltissime persone cominciano utilizzare questa applicazione perché l'hanno visto fare magari dalla chiara ferragni di turno e quindi per l'effetto influencer cominciano e se stesse a utilizzarla ed entrano in un mondo dove altre leve psicologiche vengono attivate infatti face up elimina le barriere del futuro ed è questo uno dei suoi segreti promettendoci un'anteprima di ciò che saremo da vecchi infatti le statistiche sull'utilizzo di questa applicazione mostrano che le persone che appunto hanno scaricato l'app sul proprio telefonino e che poi l'hanno utilizzata sono molto più attirate dalla funzione invecchiamento cioè dal vedere quale sarà il loro aspetto tra 30 anni piuttosto che magari rivedersi da giovani questa è la seconda leva psicologica interessante sulla quale punta tantissimo face up cioè farci avere un'anteprima del nostro futuro aumentando quindi la percezione del nostro controllo su di esso ci permette in poche parole face up di rispondere a una domanda che tutti quanti noi abbiamo dentro e cioè chissà come sarò tra 30 anni no chissà come sarà cambiato e sarà evoluto il mio aspetto come mi sarò trasformato o trasformata ecco tra le insenature di queste domande però sono celate ben più oscure paure che la semplice curiosità di come saremo il futuro infatti ci spaventa proprio per la sua imprevedibilità e tutti noi a livelli diversi vorremmo mettere mano sul tempo e vedere cosa ci riserva il futuro e face up intercetta proprio questo nostro umano desiderio e si inserisce tra le maglie delle nostre paure proponendoci una visione di noi stessi del futuro il tutto diventa poi particolarmente irresistibile e quindi virale perché viene presentato come un gioco face up infatti sembra un gioco quasi da adolescenti e viene spesso preso anche sotto gamba grazie alla sua interfaccia molto semplice non ci mette ostacoli al divertimento e quindi è un ottimo modo per trascorrere anche il tempo in maniera divertente con gli altri e cosa c'è di meglio che un app di questo tipo proprio durante il periodo estivo quindi è un attimo voler condividere con gli amici il risultato delle nostre foto ed è nostro invecchiamento quindi face up sta avendo così tanto successo perché utilizza questa leva psicologica qui il mio e il tuo desiderio di controllare il destino e della paura che abbiamo delle imprevedibilità di sapere cosa accadrà in futuro come sarò tra 30 anni sarà un vecchietto decrepito oppure avrò conservato magari il mio sex appeal e quando vediamo poi la nostra foto con qualche ruga in più ma comunque bella patinata come ce la presenta face up ci sentiamo meglio stiamo meglio con noi stessi ci sentiamo rassicurati stiamo in qualche modo in pace ecco con noi stessi quello di cui vi sto parlando è un'altra leva psicologica importante di questa applicazione e cioè l'effetto dorian gray hai presente il celebre libro di oscar wild no in cui il protagonista da appunto dorian gray è un giovane o giovanissimo molto bello dall'aspetto estremamente affascinante che riceve appunto a un certo punto in dono l'eterna giovinezza e tutti gli effetti più nefasti dell'invecchiamento vengono impressi sulla tela dove è stato dipinto il suo autoritratto ecco questa applicazione riproduce questo stesso effetto l'effetto dorian gray cioè tu ti guardi vecchio nell'applicazione che sarebbe appunto il dipinto ma poi quando chiudi l'applicazione tu sei di nuovo giovane tu sei giovane e dunque ti apprezzi di più ti piaci di più cioè capiamoci bene tu apri l'app e ti vedi vecchio poi chiudi l'app e in qualche modo ti rincuori di essere giovane perché ti riaccorgi di essere giovane e quindi sei magari anche più contento di te stesso ti apprezzi di più ti piaci di più ecco il vip quando pubblica la sua foto sui vari social non la pubblica per dire guardate come sono fico da vecchio ma quello che sta dicendo è guardate come sono giovane oggi guardatemi come sono bello oggi appunto l'effetto dorian gray è l'effetto per cui invecchio solo nell'applicazione e non all'esterno ecco questo è una delle leve psicologiche secondo me più importanti e che stanno alla base del successo di questa app ti invito a scaricarla e ad utilizzarla ti invito a giocarci anche un po' a provarla questa emozione no del dell'invecchiamento questo effetto dorian gray altrimenti questo podcast è solo una chiacchierata tra me e il microfono provala invece questa applicazione e senti se quello che ti sto dicendo è vero oppure è una cazzata ecco insomma confrontiamoci su questo in barba come diceva tutte le ideologie complottiste americane di natura americana perché essendo un'applicazione creata da un russo in america ha spopolato e quindi si è creato questa sorta di effetto paranoico per cui putin e tutta la russia stanno comprando i nostri dati i dati di tutto il mondo e allora a questo punto cambridge analitica facebook e tutte le altre multinazionali adesso sono diventati i nostri paladini i paladini della privacy ecco vendiamo i nostri dati costantemente continuamente ma non nasce qui il problema sulla nostra privacy e sull'utilizzo che viene fatto dei nostri dati quindi provala provala adesso appena avrai finito di ascoltare questo podcast e dimmi poi che cosa provi anche qui nei commenti del podcast insomma o dovunque vorrai anche contattandomi su telegram poi giuro ragazzi che prima di chiudere questa puntata darò anche un taglio un po meno polemico e darò un taglio un po più sulla crescita personale ma controlla se non ti fa anche a te questo effetto l'effetto dorian gray no vederti invecchiato ed invecchiato bene esorcizza la tua paura di morire cioè non c'è niente da fare ragazzi in quanto esseri umani abbiamo paura della morte abbiamo paura del tempo che scorre e questa applicazione esorcizza la tua paura di morire e ti aiuta a piacerti di più in maniera poi del tutto contro intuitiva il successo di face up è dovuto al fatto che ci permette di salire sulla macchina del tempo e di andare avanti e indietro quindi nel passato e nel nostro futuro solo che questo ci tengo a dirlo in maniera molto chiara che ciò che ti offre non è mica la realtà ecco le immagini che escono fuori da questo lavoro che viene fatto sulla nostra immagine sul nostro selfie attraverso alcuni parametri facciali ecco è un risultato filtrato non è l'esatto risultato del trascorrere del tempo questa è l'ultima leva mentale che rende questa app così virale l'effetto specchio magico la modalità ringiovamento e la modalità invecchiamento sono programmate per restituirte immagini migliorate di te perciò quello che vedi non è reale ma la percezione che arriva al tuo cervello è che dai tutto sommato invecchiare non è così male non stai messo così male no non hai perso il tuo sex appeal il tuo fascino ma se fate una prova caricando magari una vostra foto applicando uno dei due filtri non siete uguali a come eravate da giovani oppure se avete caricato un'immagine da più giovane di quelli che siete adesso il risultato dell'invecchiamento non è quello che siete voi oggi questo perché la trasformazione che è prevista dall'applicazione è di non essere fedele alla realtà face up non ha alcun interesse di darci un'immagine realistica e imbruttita di noi stessi ma anzi una immagine migliorata di noi stessi face up è programmata per creare un'immagine abbastanza plausibile nella quale magari possiamo riconoscerci ma nello stesso tempo deve essere un'immagine migliorata rispetto alla realtà e questo genera l'ultimo effetto psicologico che sta alla base del suo successo cioè l'effetto specchio magico cioè quello che ci costringe ogni volta a ritornare sulla app anche quando magari pensiamo di farlo semplicemente per per passare il tempo cioè ogni volta che magari non ti piaci o magari stai passando un periodo di bassa autostima o magari ti senti anche un briciolo più invecchiato rispetto al giorno precedente magari proprio questa mattina ti è venuta una nuova ruga sul viso allora puoi aprire tranquillamente l'app ti fai un selfie e poi va applico il filtro invecchiamento e quando torno normale starò di nuovo bene con me stesso perché l'immagine di me invecchiata messa a confronto con quella che sono oggi come abbiamo detto prima per l'effetto dorian gray avrà un risultato un impatto positivo sulla mia autostima e sulla mia auto percezione personale perciò capite bene cosa c'è alla base di questa applicazione soprattutto alla base del suo successo ma ci tengo a precisare in quest'ultima parte del podcast prima di salutarci per le vacanze quindi non voglio rendere questo saluto pesante ci tengo a dire che la cosa più importante non è demonizzare la tecnologia piuttosto la cosa importante che voglio sottolineare è l'uso che ne facciamo ecco l'uso che fai delle applicazioni che scarichi sul tuo smartphone è la cosa più importante non è l'applicazione in sé siamo fruitori consapevoli o inconsapevoli ecco io spero che ascoltando questa puntata del podcast tu oggi possa utilizzare comunque face up ecco non è l'evitamento dell'applicazione che ti renderà una persona più consapevole perché sicuramente ti capiterà prima o poi di averci a che fare personalmente non sono quindi del tutto contrario a questa applicazione e soprattutto a ciò che c'è alla sua base cioè non sono contrario al fatto che sia ciò che vogliamo diventare in futuro a guidarci nelle nostre scelte e nelle nostre decisioni che prendiamo oggi bensì sono contrario quando lasciamo che a dirci come diventeremo sia un algoritmo di un'applicazione ecco questo trovo assolutamente sbagliato ma secondo me non c'è nulla di male ad avere una visione chiara di ciò che vogliamo essere ciò che vogliamo diventare quindi trovo face up un'applicazione divertente no complotti sulla privacy a parte e che deve aiutarci e farci riflettere su chi vogliamo essere noi da grandi ecco questa domanda è una domanda che puoi farti sia che hai 20 anni sia che ne hai 30 40 50 60 ecco non conta la tua età è sempre una domanda utile che puoi farti in qualsiasi momento della tua vita cosa vuoi essere da grande chi vuoi diventare chi vuoi essere in futuro magari anziché fare una proiezione su chi sarai nei prossimi 30 anni come fa face up potresti magari pensare a che tipo di persona vorrei essere tra 3 4 anni ecco che tipo di uomo che tipo di donna vuoi essere fra tre anni fra cinque anni quali competenze quali sane abitudini quale virtù vorresti aver coltivato durante questi tre cinque anni ecco fare questo esercizio secondo me è un modo molto utile per ascoltare le paure sul futuro di cui abbiamo parlato anche prima sulle quali si poggia questa applicazione ma che non ci aiuta ad affrontare e quindi iniziare a fare una riflessione sana e coerente di ciò che vogliamo noi prima di tutto essere come persone nel futuro eccoci qui ragazzi anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast e sia che tu abbia già cominciato le tue vacanze e magari stai ascoltando questa puntata del podcast sotto l'ombrellone o magari come me sei in trevita attesa dell'inizio delle tue ferie delle tue vacanze io voglio augurarti una buona estate 2019 ringraziandoti per quest'anno dove sei rimasto fedele all'ascolto di questo podcast dimostrando quello che è il tuo affetto il tuo attaccamento nei confronti di questo progetto iscrivendoti al canale telegram segreto privato di questo podcast quindi se non lo hai ancora fatto e vuoi anche tu entrare a far parte della community delle menti libere non devi far altro che inviarmi il messaggio sono una mente libera al mio contatto telegram anche perché a seguire di questa puntata dopo averla pubblicata pubblicherò anche all'interno del canale telegram la mia personale foto diciamo face appata quindi metterò il mio filtro invecchiamento e il ringiovanimento a su una mia foto e lo pubblicherò e lo condividerò solo con le persone iscritte al canale telegram ma come sempre lasciatemi ringraziare coloro che oltre ad ascoltare il podcast oltre ad essere iscritti al canale telegram d'elementi libere hanno deciso di aiutarmi in questo progetto a portarlo avanti a farlo crescere a migliorarlo ogni giorno attraverso il loro finanziamento su patreon quindi un grazie speciale ad alessia cecconi ad antonio andriollo a davide rizzo a carmelo conti a debora fontana ad elena giorlando a fabbio giuliani a fabbrizio a filippo labruna francesco maggioni a nantorella guerra a mara boschello a mauro catini assange a waco e ultima new entry anche a grande giacomo siska che con il suo progetto vita dei videomaker oggi ci onora a far parte anche lui della community dei finanziatori di questo progetto se anche tu vuoi entrare a far parte di questo progetto che è liberamente non devi far altro che andare nelle note di questo episodio trovare il link diventa finanziatore e scegliere anche un finanziamento semplice di un dollaro che praticamente equivale a offrirmi virtualmente un caffè al mese quindi se hai desiderio e ami questo podcast hai tutto a disposizione all'interno delle note di questo episodio perciò ragazzi io saluto tutti quanti vi auguro una buonissima estate 2019 mi raccomando godetevela riposatevi perché nella seconda metà di agosto riprenderemo a riascoltarci sempre qui su liberamente liberamente il podcast di psicologia con storie idee consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di matteo neroni ciao 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 ciao